What is it? Il Made in Italy è il DNA dell'Italia, incarna tutte le competenze distintive del Made in Italy, il bello, la qualità, il rapporto umano, la romanticità, quel gusto che fa la differenza, quel gusto e quella unicità che non è imitabile da nessuno, perché fa leva sulla cultura del vivere bene, la cultura della qualità della vita, il vero Made in Italy. L'Italia ha nel suo DNA quello di diffondere, di condividere, di vendere l'esperienza, un'esperienza fatta in un borgo della Toscana, un'esperienza fatta nella Wellness Valley in Romagna, un'esperienza delle città d'arte, un'esperienza della nostra alimentazione, un'esperienza della nostra bellezza nel design, nell'architettura, nell'ambiente. Questa bellezza che parte dalle meravigliose coste italiane, colline, dolomiti, di questo verde che si trasforma in tante tradizioni locali. E in questo caso l'Italia può essere credibile per la salute, per il benessere in tutti i paesi, perché non è legato alla cultura occidentale, orientale, né tantomeno a quello che può essere un gusto locale, ma la salute, la prevenzione, la felicità, perché il Wellness è felicità, è uguale in tutto il mondo. E questo per l'Italia è un'opportunità straordinaria per creare dell'Italia il più grande produttore di benessere al mondo. Essere fin da piccoli, contagiati da questa cultura del bello, della qualità, del design, del benessere, è sicuramente la differenza. Cioè non si impara a 40, 50 anni, o durante un viaggio, o solo attraverso gli studi di stranieri in Italia, o chi copia in giro per il mondo i nostri prodotti, non può copiare la nostra cultura, il nostro DNA. Quindi i nostri prodotti rimarranno originali.